Ci troviamo nella città vecchia di Taranto, nel borgo antico, precisamente in via Duomo. Circa un mese fa, più o meno, vi abbiamo segnalato una situazione particolare, quella del signor Gallina, assegnatario nel 2003 di una casa di proprietà del comune. Successivamente a questa data è nata una bambina, il signor Gallina ha una figlia, e la figlia purtroppo è affetta da grave disabilità, motivo per il quale l'appartamento, vista la presenza di grosse barriere architettoniche, è praticamente inaccessibile per la figliola. Il signor Gallina ovviamente nel momento in cui ha ricevuto la casa nel 2003 non poteva sapere, non sapeva che gli sarebbe nata una figlia e che purtroppo la figlia avrebbe avuto questi problemi di disabilità. Il signor Gallina non chiede soldi, non chiede nulla al comune, ha chiesto solamente, giustamente, di poter avere un altro alloggio, un alloggio in cui non vi siano le barriere architettoniche estremamente ostative per qualsiasi spostamento della figliola. Io mi sono rivolto all'assessore del comune di Taranto al patrimonio, l'avvocato Vigiano, per sottolineare questa problematica. Dico ma è possibile ottenere un cambio di alloggio? e la Vigiano mi ha detto, dice, purtroppo non vi sono altri alloggi disponibili per cui o qualcuno accetta il cambio e quindi rinuncia all'alloggio di cui dispone oppure bisognerà aspettare, non si sa quando, che vi siano altri alloggi. Su questa vicenda, anzi questa vicenda mi è stata proprio sottoposta all'attenzione da Ugo Lomartire, già presidente della circoscrizione Isola Porta Napoli e già consigliere del comune di Taranto. Quindi abbiamo fatto questo breve riassunto a beneficio di chi non ricordava o non conosceva la vicenda e quindi Lomartire, l'avigiano, dice, io con tutta la buona volontà, con tutta la sensibilità non posso far nulla perché il comune al momento non ha nuovi alloggi. Lo ripeto, se qualcuno rinuncia, ebbene, cioè rinuncia, può fare il cambio con il signor Gallina e il signor Gallina potrebbe accedere in una nuova abitazione. Ma viceversa, se nessuno rinuncia, il signor Gallina, non essendoci nuove abitazioni, purtroppo è costretto a rimanere dove sta. Lomartire, io riferisco questo passaggio. Sì, se fosse confermato da parte dell'assessore quello che le ha riferito perché non lo abbiamo visto dal punto di vista pubblico, ha rilasciato a lei telefonicamente questa dichiarazione, se così fosse sarebbe grave dal punto di vista politico in entrambi i casi. Nel senso che nel primo caso il signor Edoardo Gallina ha fatto una domanda che è qui, protocollata, del 19 gennaio 2017. Quindi si dovrebbe dimostrare che dal 19 gennaio 2017 non c'è stata nessuna assegnazione nella città di Taranto. Perché se ci fosse stata un'assegnazione nella città di Taranto, in quel momento sarebbe dovuta andare prima al signor Gallina che aveva fatto domanda di cambio e nulla togliere al primo degli aventi diritto che gli doveva essere assegnata la casa perché una persona non invalida, con nessuna persona affetta di invalidità nella famiglia, gli poteva essere assegnata tranquillamente questa casa. Quindi non avrebbero avuto problema né la persona nuova della graduatoria e né il signor Gallina che avrebbe risolto il suo problema con la sua figlia invalida. Quindi l'assessore dovrebbe, dal punto di vista informativo e politico, anche rendere inutile... Amministrativo. E amministrativo dovrebbe dimostrare con i documenti alla mano che dal 2017 ad oggi nella città di Taranto non è stata fatta nessuna assegnazione. perché se fosse stata fatta un'assegnazione dal punto di vista politico sarebbe grave perché non è stata considerata la gravità della situazione di una persona dove nell'ambito familiare c'è una bambina invalida e quindi questo sarebbe grave dal punto di vista politico. Se così invece non fosse, ci ritroviamo dall'altro punto di vista che dal 2017 ad oggi non ci sono state assegnazioni perché non ci sono all'oggi, noi siccome ci troviamo in una città, quella città di Taranto che è una città con un elevato tasso di disoccupazione, di povertà e di tante persone che sono costrette a fare la domanda per avere un alloggio comunale allora sarebbe grave che in una città come Taranto non ci sono alloggi disponibili e allora in tal caso io domando cosa sta facendo l'amministrazione in questo senso per risolvere il problema e dare una risposta dal punto di vista politico dal punto di vista politico e anche dal punto di vista poi concreto a tutte quelle persone che hanno fatto la domanda perché tutte quelle persone che hanno fatto la domanda e sono in graduatoria che cosa gli si fa fare la graduatoria, che cosa si fa fare la domanda nel momento in cui non ci sono case e come si intende risolvere dal punto di vista politico un problema così grave perché il problema degli alloggi è un problema grave, serio perché quando una persona non sa dove andare come alloggio, come casa diventa un problema gravissimo io sentivo l'altro giorno proprio di emergenza sociale di emergenza sociale tantissime domande sono fatte tantissime persone sono in attesa di alloggio, di abitazione in città vecchia, al di fuori della città vecchia e dovrebbero avere una risposta pertanto o in un caso o nell'altro sarebbe grave dal punto di vista politico e io chiedo che venga data un chiarimento rispetto a questo per poter rispondere nuovamente perché mi scusi se mi permetto di interromperla però quando ci si ritrova davanti alla situazione di una famiglia dove c'è una bambina con una situazione di invalidità dove la casa segnata all'epoca andava bene perché non viveva ancora la bambina era nata proprio e quindi si trova al secondo piano di un edificio in città vecchia e l'appartamento stesso è diviso su due livelli quindi si tratterebbe di quattro livelli ma oggi che c'è questa situazione questa persona che tra l'altro è estremamente educata estremamente gentile estremamente umile si deve aiutare o in una maniera o nell'altra dal punto di vista A. legale si può aiutare B. e dal punto di vista politico andare giustamente incontro alle esigenze di questa famiglia allora io dico io ho stima verso l'assessore Vigiano e dico all'assessore Vigiano i temi, gli spunti lanciati da Lomartire hanno una grande logicità mi piacerebbe avere una risposta dall'assessore Vigiano ma non per fare polemica assolutamente ma per dare risposte al signor Gallina per dare risposte soprattutto più che al signor Gallina che è il padre alla figlia del signor Gallina che purtroppo è portatrice di handicap anzi, anzi, Lomartire mi piacerebbe proprio un bel confronto tra lei e l'assessore Vigiano un confronto civile, democratico proprio volto a monitorare un focus un focus sulla emergenza abitativa perché se non vi sono alloggi popolari da assegnare è un vulnus, è un vuoto enorme e allora, signor Gallina noi siamo stati di parola a distanza di un mese siamo tornati lo ribadiamo lei, ecco questo è bene precisarlo non ha chiesto soldi non ha detto al comune dammi soldi perché il signor Gallina grazie a Dio il suo lavoro ce l'ha dice solo datevi una casa per rendere la vita meno dolorosa per mia figlia sì, io ho chiesto un cambio io non chiesto solo non voglio niente fino ad ora dal mese che è la prima volta il comune il sindaco non mi penso non ha avuto risposta niente da nessuno bene e allora Lomartire siamo nel momento della conclusione noi lanciamo questo invito all'assessore Vigiano noi vogliamo avere vogliamo dare risposte al signor Gallina ma vogliamo dare anche risposte a chi vuole una a diritto carte alla mano reddito alla mano ad un alloggio popolare gli alloggi popolari sembrano non esserci il vero problema centrale quello concreto è l'aiuto alle persone in difficoltà prima viene questa situazione in generale di tutti i problemi delle persone che sono in una situazione di difficoltà poi viene tutto il resto c'è un ordine di priorità delle cose e in tal senso tra le altre cose il signor Gallina per umiltà perché è una persona molto educata perché è una persona anche timida pacifica molto pacifica come è giusto che deve essere anche perché noi in maniera tranquilla democratica stiamo esprimendo quella che è una denuncia al fine che questa situazione si possa risolvere in maniera costruttiva tra le altre cose anche egli stesso ha una situazione di invalidità non lo ha detto adesso visto che dopo tanti giorni che sono passati non c'è stata una telefonata al signor Gallina lo dico io quindi oltre la situazione della figlia grave anche il signor Gallina ha una situazione di invalidità si deve risolvere una maniera o l'altra bene allora questo questa intervista integralmente andrà in tv andrà su delta tv andrà su sky andrà sui social e poi io personalmente ritelefonerò all'assessore Vigiano e così avremo un quadro come dire aggiornato su questa situazione il nostro obiettivo far vincere i diritti della figlia del signor Gallina voglio precisare che questa è una battaglia di civiltà di giustizia sociale non ha nessuna coloritura o spinta politica ci interessa soltanto che i diritti di una persona diversamente abile con un altissimo grado di disabilità questi diritti siano garantiti ci troviamo in uno stato di diritto non dimentichiamolo mai di disabilità di disabilità �